Io sono Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, campione del mondo di scinautico. Il vento contro, oltre ad essere il mio libro, e quindi è un titolo a cui sono molto legato, scritto con De Agostini, è il senso della difficoltà. Io sono cieco, appunto, ma non per questo posso vantare più o meno difficoltà rispetto agli altri. Anche chi vede vive magari una fatica, un momento no, una difficoltà, e allora non importa quale sia il vento contro che ognuno di noi ha, ma importa le strategie che troviamo per uscirne, importa come ne veniamo fuori. Buon vento contro a tutti e soprattutto buona strategia a tutti.